E adesso, se non si inventa qualche cosa di particolare, la situazione è davvero disperata per lui. Ancora due bocce in mano a Savoretti, 12 già in terra. Sta chiedendo la distanza da bocce dal pallino, dichiara il pallino di volo e francamente non possiamo dire che non ce l'aspettavamo. Il pubblico rumoreggia, si accalca per vedere questa giocata. Ha nelle sue corde il tiro di volo anche a distanze davvero ragguardevoli. Signorini, silenzio. Potete sentire anche nell'ambito del bocciodromo il suo tiro. Grandissimo volo. Colpisce, ma non gli va fuori, ma colpisce il pallino sulla sponda di fondo. Davvero una grande giocata. Non fa neanche tirare le bocce a Savoretti. Che applaude anche lui mentre gli va incontro per dare la mano. Davvero una grande giocata. Sentite ancora il pubblico che applaude. Finale della ventottesima edizione che è un premio di Valtellina tra Savoretti e Nanni. Ma finale veramente con il botto. Pallino di volo colpito sulla sponda frontale da Signorini. Riceve complimenti e applausi davvero da tutti. e in attesa di cominciare la finale di questa splendida gara nazionale. Ci prendiamo una breve pausa. A tra poco.